La foto è un'arte, un'istantanea che racconta una storia e questo i fotografi di mestiere lo devono cogliere quando entrano in empatia con il soggetto che ha davanti. Se ne è parlato in un apposito corso che si è svolto nella sala di Confartigianato. Alle pareti la foto di Bruno Tavanti, un fotografo che ha svolto un ruolo importante nel settore aderezzo. In che consiste questo lavoro che lei fa? Il mio? Io entro in empatia e in intimità con i miei soggetti e quindi i miei ritratti dovrebbero passare la personalità dei miei soggetti in maniera molto forte, quasi uno schiaffo in faccia. Ma c'è una tecnica particolare per poter meglio, fra virgolette, sedurre i suoi soggetti? Questo si impara al workshop, forse, e poi sì, in teoria si dovrebbe un po' imparare al workshop, però è assolutamente personale e soggettivo come la fotografia ovviamente è. Ecco, la fotografia riassume e sintetizza anche una storia o dovrebbe farlo? Sicuramente, nel mio caso sintetizza il momento che io passo con i miei soggetti. Ecco, ed è, c'è una linea particolare? C'è non tanto un pubblico ma un mercato particolare per fare queste cose? No, in realtà no. Non fotografo per compiacere nessuno, né per un determinato pubblico, però sicuramente c'è un seguito, ma nasce spontaneo.